Ciao, sono appena arrivato ad un appuntamento per visionare gli immobili di un cliente che ha deciso di vendere prima e meglio, usufruendo dei nostri servizi per valorizzare al massimo il proprio immobile. Se anche tu hai deciso di vendere prima e meglio, ti metteremo a disposizione tutti i servizi per trovare il tuo cliente di rente ideale. Non esitare a contattarci. Ciao! Grazie per la visione!